Ciao, sono Luca Delieto, sono il CEO di MAPSO. MAPSO è una startup romana innovativa. Abbiamo sviluppato un'applicazione che permette di vedere i monumenti ricostruiti dalla Roma e in realtà virtuale. Abbiamo sviluppato circa 25 punti di interesse e ne abbiamo oltre 600 che descrivono la nostra città. Siamo qui al Rome Startup Week, un evento organizzato bene e per avere più visibilità possibile speriamo che sia un buon incontro. Siamo tra le altre cose anche associati di Startup Turismo che è un aggregatore di startup innovative a livello nazionale e venite a trovarci qua a Rome Startup Week.